Che cosa significa nativo digitale? Qualche tempo fa, ho sentito per la prima volta l'espressione, nativo digitale. Io che sono un tipo molto intuitivo, P, pur non conoscendone il significato ho capito subito a cosa si riferisse, poi però mi sono documentato meglio ed ho scoperto quanto segue. Che cos'è un nativo digitale? Che cosa significa nativo digitale? Con il termine nativo digitale, digital native, si intende indicare una persona che è nata e cresciuta con le moderne tecnologie digitali. Parliamo di computer, tablet, cellulari, smartphone, mp3, ecc. I nativi digitali infatti, sono quelle persone che sono nate già nell'era del computer, alle quali è stato insegnato tutto in maniera naturale crescendo, imparando ad usare i vari strumenti digitali con estrema naturalezza. Parliamo quindi dei bambini di oggi, che riescono ad usare tablet come se niente fosse fin da piccoli, a differenza ad esempio delle persone anziane che magari fanno molta più fatica ad apprendere come usare queste nuove tecnologie. Il nativo digitale ha quindi una curva d'apprendimento molto più ampia su tutte le nuove tecnologie digitali, rispetto a chi è nato prima. Anche se fa un po' discutere vedere bambini con smartphone e tablet, c'è da dire che ormai sono strumenti di didatti causati un po' in tutte le scuole. Basta che ci sia il giusto controllo da parte dei genitori. Quando è nato il termine nativi digitali? Ufficialmente comunque, il termine nativo digitale è stato coniato nel 2001 dallo scrittore statunitense Mark Prensky, e serve ad indicare tutti quelle persone nate dopo il 1985, anno in cui corrisponde la diffusione di massa dei computer ad interfaccia grafica. Capito dunque? Se sei nato dopo il 1985 sei un nativo digitale.